Domenica fruttuosa con Lanciano che supera con il minimo scarto la bacica lupo nell'ultimo turno d'andata del campionato. Partita che si conferma ruvida come dalle previsioni. I ragazzi di mister Cesario sono ben messi in campo, concedono pochissimo spazio ai rossoneri che dal canto loro tengono in mano il pallino del gioco per l'intera durata del match. Partita che ha visto rossoneri riversarsi a ridosso della tre quarti avversaria quasi per tutti i minuti. Prima occasione per il Lanciano che arriva con Schiphol, poi tentativi fuori misura di Miciche, ancora Schiphol, Sassarini, però nulla di fatto e dunque si va al te caldo sullo 0-0 dopo un primo tempo povero di emozioni. Non cambia il copione nella ripresa, sempre Lanciano all'attacco, ospiti che stringono le maglie di difesa e centrocampo. Miciche sembra il più ispirato con Rodia e Di Rocco a comporre il tridente offensivo ed è proprio il bomber a trovare l'angolino su sponda di Di Rocco al 34esimo gol che vale oro e Miciche che sale in classifica marcatori a 16 centri. Lanciano che fa melina porta a casa tre punti pesanti in vista del big match di domenica prossima al Biondi contro il Castelnuovo Vomano, gara che aprirà il girone di ritorno di un'eccellenza ancora tutta da vivere. Sentiamo mister Di Pasquale. La prossima sfida pesa tanto ma non è determinante perché comunque anche impattando la partita non cambierebbe molto nell'economia del campionato e potrebbe essere diverso perderla, questo sì. Però riguardo alla partita di oggi, sì sicuramente una vittoria che ci dà tranquillità però è stata anche una vittoria di maturità. C'è una squadra che ha saputo aspettare, non ha avuto fretta, non si è fatta prendere da nervosismo invece ha continuato a tenerla, giocarla, non sprecarla fin quando poi è arrivato il giro giusto. Mister Lesordio di Rodia? Buono, sicuramente buono, ha dato vivacità, ha chiuso bene un'azione, un'altra non è riuscita a chiuderla bene però comunque è stato molto vivace.